I carabinieri della Compagnia di Sassere hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al controllo della circolazione stradale, alla prevenzione e repressione dei reati predatori e in materia di sostanze stupefacenti. Il servizio si è concentrato nel centro storico sassarese. Sono stati impiegati in totale sei pattuglie che hanno eseguito numerosi posti di controllo in varie piazze del centro, su tutte Piazza Santa Caterina, Piazza Tola e Piazza d'Italia. A seguito dalle attività, un cittadino sassarese classe 68 è stato denunciato per porto abusivo d'arme o gettate ad offendere poiché è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Sono stati denunciati invece per guida in stato di ebrezza due uomini sassaresi classe 78 e 61 poiché sorpresi alla guida dei propri autoveicoli con tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Le loro patenti sono state ritirate. E' stato eseguito inoltre un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino extracomunitario di origine nigeriana classe 91 con numerosi precedenti di polizia per aver violato l'osservanza della misura del divieto di dimora nel comune di Sassari. L'uomo era infatti ricercato da alcuni giorni ed è stato rintracciato per le vie del centro storico. Sono stati segnalati invece quali assuntori di sostanze stupefacenti un uomo e una donna sassaresi rispettivamente classe 2003 e classe 82. Ai medesimi sono stati sequestrati un grammo di cocaina e 5 grammi di marijuana. Nel corso del servizio sono state identificate in oltre 120 persone e sono stati controllati in totale 70 veicoli.